Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ci troviamo qui allo Sneak Peek da Draft, voglio dare un po' di indicazione ai giocatori nella zona? Allora ragazzi, questo è il primo negozio specializzato a potenza che si occupa appunto di organizzare anche gli eventi di Yu-Gi-Oh! in maniera professionale, il negozio è aperto da solo sei mesi e questo è il primo Sneak Peek ufficiale che organizziamo all'interno della nostra attività. Nel negozio oltre a trovare tutte quelle che sono le bustine, i mazzi, le protezioni per le carte, tappetini eccetera eccetera, organizziamo anche in maniera settimanale dei tornei in modo che voi possiate continuare ad allenarvi con i vostri amici. Ecco, venite dove ci sono io così soccontenso. Mi raccomando, venite numerosi perché abbiamo bisogno di nuovi giocatori. Ok, qui sotto vi lascio via tutto, se volete info. Poi vi lascerò un simpatico, noi ci troviamo a Corso Garibaldi 17. Ecco, nuovo arrivato, buon salve. Ok, intanto andiamo a vedere lo sbustamento di lì. Ecco qua c'è il mio playmate, se volete voi potete cominciare a sbustare. Va bene. Ecco tu presentati, buon uomo che ti vuoi presentare a tutti. No, non ti presento, però voglio la mia faccia. Ok. E io guarderò e soffrirò. Freders, portami fortuna. Guardalo lì, guardalo lì. Guardalo lì. Artista amico. Mettete le rare qua. Alla mia cazzo, volevo GoFu. Volee? Beh, no, è serio. Ah, armature. È un artista amico. Poteva andare molto meglio, però vabbè, 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 questa è la bella ultra. Qualcosa di magico. Buco pendulum. La si dare. La città nascosta. Bella, quella è fighissima. Arista amico. Cavallo Rafa. Alla nera GoFu. Quella è mia, quella è mia. Mi guardiamo le tue carte, vai. Bellissimo, quanto bella. Cambiamo foto di Redex. Cosa? Ah, è lì, ma. Cazzo, questo lo volevo fare. Ma vabbè, Barocci. Ma che, è Barocci o no. Allora, lui intanto si diverte. Li hanno messo pesante. Maglio e Usoria. Ah, Mago d'Alto Deppano. Eccolo. E quello è carino. Ma genere, qua dentro c'è Coral, no? Sì, sì, è lì dentro. Serviamo come viene preso Coral. Dino Foschia. No, non c'è Coral, no? Eh, hai trovato una fusione. Eh, questo è Coral. Eh, questo è Coral. Questo è l'accento piuttosto pesante. E ho trovato il secondo solario. Buco Penisio. Contro metano. Artista amico Bulatog. Così carino. È troppo bello. Gomma da sintonizzare. Amaterasu. Eh, questa è la dirige da quel nuovo archetipo. No, lui si diverte. Se vuoi sbussare. L'ultima. Non incodrate mai la mia faccia, perché sono famoso senza la mia faccia. Speriamo in bene. Non riesci a trovare Gofus da Giorgio. Non lo trovo io. Non ho trovato Giorgio. Super Carnevale Ippopo. C'è un sincro. Ed è Coral. Aspetta. Aspetta. Nicolos, non il mare. No. Non è Arcidemone Dragolosso Titanico. Eh, fuori. Vero, 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 vero. Vero, vero, vero. L'ultima, abbiamo portato un po' forte. Che culo bucato. Mamma mia. Beh, è andata bene sto giro. Posso aprire pure... Vai, vai, aprire. Tanto non lo devo utilizzare. Io non ho il culo suo, quindi... Tu non metti i fatti. Ah, però è ultra. Intanto lo so io quello che sbusta solo super e rare. Mi preoccupate. Oh, sì. Posso cancele Infernoid... Oh, Infernoid. Ma va. Ehm... Questa. Vabbè, intanto. Se voi ti inquadrate... Magari solo qua. Potreste... Eh... No, no. Io sbusto le rare. Che trova trovarci bene. Ho detto non è il diritto di parola. Ho due qualcosa di male. Due qualcosa di male. Ci metto. Tu non hai diritto di parola. No, ha detto questo. La p***a. Ah... Leggiamoci un po' l'effetto con Dan. Ah, è un po' così. Aha. Eh. Boh. Bello. E' carino. Gof Gof. Ho trovato pochissimi. Il mio Gof. Io non ho messo nemmeno uno. Io quello cercavo. Tanto io sbustero solo super. Allora, prima cosa dovrei fare. Perché è il mio destino. Sono odesto. Questo è mio. Un 81 che non mi ricordo neanche l'effetto. E' grosso, non mi ricordo. E' grosso. Ah, sto qua. Ok, ho capito. Allora, lo metto qua. Che fa ma che altro? Che bello, siamo ancora in quattro. Quante emozioni. Eh, può essere, no? Ho la Ultra. La mia prima Ultra da... E' la mia stessa Ultra. Da un pacchetto. Si. Da un pacchetto nuovo. Si, ma io non troverò Secret. Bello. Si, sennò non bisogna trovarlo necessariamente. Oh, una Secret. La reazione magica. Dopo la leggo. Che non me la ricordo. Disse quello che non trovo mai le Secret. Disse che... Oh, per una volta. Per una volta, orca a me. Ma bene. E' buona. Delle bustine nuove. Ci vuole la mano. Ci vuole la mano. Ci vuole la mano. La mano ci vuole. Camminatore magico. Tutto magico in questo mazzo. Si, eh. E infine dai, apriamo. Ok. L'OTS. L'OTS. Ah, io l'OTS ancora non l'ho aperto. Ulti. Disse quello che non trova mai i miei. Ah. DRAGONOVA! Disse quello che... Sempre DRAGONOVA a trovare. E ora ne ho due. Ok. Che vuole aprire l'OTS. Sono felice, basta. Ora inquadriamo l'ultimo OTS. L'OTS. L'altra ulti. Ma vuote' che... Ma secondo me... Ma io so sfigato. Io non so come ha lui. Ti dico no, so sfigato. Ma vuote' che trova l'OTS. Sfigato veramente. Ma vuoi trovare ancora là dentro, così a casaccio. Queste due me le metto però. Pipone merda, vedi che buona. Disse quello che... Disse. Allora, lui che soffre nell'angolo. Sfigato. Ed ecco, è arrivato un altro uomo. Un altro uomo. Un altro uomo. Un altro uomo. Ecco. Ah, l'ironvolo. Fascina dell'oscurità ha trovato. Come le... Ah, ma nel nuovo. Però è... Si dentro. Un po' di ferro in reale. Ma fanno pure. Ma io si... Prenda dei busti e ciò. Ti serve per te. Ecco. Coral. Dov'è il coral? Oh, Elena. E basta che ti voglio. Mi so spaventato. Pensavo che fosse coro. Vai cazzo. Sono l'unico che non troviamo i vostri magici. Che cazzo. Venti minuti. Cazzo. Cazzo, però ho trovato carte troppo... Eh, la jarra. È uscita. Ma chi è uscita? È uscita la jarra. Te l'avevo scordato. Ma che cazzo? La carta è scarsa. È uscita. Peschiamo 10. Ma non so che fa la jarra. Pesca 2. Pot of Grip praticamente. Danni di Cicacce dal maschio. È pesca 2. Oh, così. Che fanno male. Oh, questo era il tizio coreano. Ma io l'ho trovato. L'ho trovato pure io. Questo era il prima, un archetto che stava solo in Corea. Esatto. Il primo... La mia prima carta è scarsa. Però non mi ricordo dove è freddo. No, no. Mmm. Dov'è la secret? È qua, è qua. È la Cora. La senti? Ma che è uscita il Goku. Lui ormai ha satanato dei Goku. Stavate sognare i Goku. Io ho trovato solo questo. Ho trovato in metà. Solo questo. Boh, diciamo che ho ripagato lo sneaky. Tanto. Ah. No, intanto c'è Thomas. Il tiramide mi piace un po'. Thomas con errore di stampa. 5 togliamo il Niko. No, è che è uscita la short print. La VeriTail. Olè. Quindi ci sta. Adesso si. Si sbusta di nuovo. Ragazzi, datemi altre boost. Altre boost. Ah, mentre ho montato il mazzo forte con lui. Che è un Zico, vabbè. Dov'è il Coral? Dov'è il Coral? Mostraci il Coral. Mostraci il Coral. Eh, mago nero. Se li metto qua così. Ok. Altre mani che aprono altri pack. Ah, ma quello è il mio. Sì. Ma pure io ho... Ho troppo sto tizio qui con i capelli gommosi. Il gommoso ce l'ho pure io. Dov'è il Coral? È uscito Coral. Non è vero. Attenzione, Inzaki. Ed ecco l'altro tiramide. Ma Stag vogliamo Coral. Cosa hanno fatto uscire? Vuoi vedere che trovano Nirvana? Oh, non il Coral. Non è vero. Quella di Game Paul. Guarda. Non è vero. Il Procione è carino. Eh, questo è carino. Io non so. Il Subterrore. Quei cosi strani che li devi settare. Sono strani. Non ho controllato. Ma in pratica giocano tutto sul settare. Cosa? Il Subterrore. Non è vero. Non è vero. Hai trovato la città? Non è vero. L'errore segreto è la città nascosta. Eh. È vero. Io ho trovato un altro errore segreto. Allora, eh. Ma questa esce come le patatine, sta Materato. Ma è fighissimo Materato. Ma dipende da me. Esce come le patatine. Chi esce come le patatine. Ma Materato. Dov'è il Gofo esce come le patatine. Dov'è il Gofo? Esce come le patatine. Dov'è il Gofo? Il Procumbo di luce normale. Non mi ricordo perfetto. Hai finito? Ah, l'OTS. Non so. Niente coral. Ma non interessa il coral da OTS. Non è uscito nulla. L'ultima bussina è la più fortuna. C'è bellissimo. Tra la Torcidiamo e la Crozzano non è uscito nulla. attenzione è senza antimagia quella te la prendo io è senza antimagia